Magari di quella serata, perché io ho fatto Borotalco, dopo due settimane ero partita per il Marocco con Liliana Cavani per un film con Marcello Mastroianni e siamo stati quattro mesi a Marrakesh e a me mi telefonavano da Roma, a parte che la delusione di non essere presente in sala a Roma, io finalmente chiamata a fare una romana, io romana e quindi ma mi chiamavano tutti gli amici in Marocco, mi dicevano ma il film è una bomba, viene giù il cinema e io una rabbia, io non l'ho mai visto al cinema Borotalco, oggi sarà la prima volta.